La direzione istruzione delle comuni di Terni ha reso noto che dal 22 agosto al 9 settembre sarà attivato per i minori dai 6 ai 10 anni il centro estivo estate alla cascata dei colori, organizzato dal comune con la gestione delle cooperative ACTL ed Elios. Tante le attività ludico-ricreative di assistenza e cura previste, come attività di outdoor education, visite alla cascata e al Museo IDRA, soft rafting e gite in battello sul lago di Piediluco, ma anche laboratori di creatività ed educazione ambientale. Le attività si terranno alla scuola dell'infanzia la cascata dei colori in località Campacci di Marmore, dalle lunedì al venerdì. Sono previsti tre moduli settimanali, dal 22 al 26 agosto, dal 29 agosto al 2 settembre e dal 5 al 9 settembre. Disponibili il servizio mensa e il servizio di trasporto andata e ritorno, con fermate a Palazzo Spada e Conad Ospedale. Nella quota di partecipazione gratuita, con ISEE inferiore a 10.000 euro e 50 euro a settimana, con ISEE superiore a 10.000 euro, sono compresi la fornitura di materiale didattico, igienico e di consumo, la sanificazione quotidiana, periodica e finale dei locali utilizzati e un'assicurazione in fortuni per gli utenti. Le famiglie che fruiscono del servizio gratuito potranno iscriversi per un massimo di due volte per permettere di accedere anche ad altre famiglie, fatta salva la disponibilità di posti liberi. Inoltre per ogni modulo verranno riservati tre posti a minori con disabilità certificata.